ok saluto a tutti sono Alex e bentornati in questo video di minecraft con il mio amico Matteo detto anche su youtube DonFier94 e che dopo vi lascio il canale in descrizione comunque oggi siamo tornati su una sfida di minecraft benissimo siamo tornati su una sfida di minecraft che era già da un po' che non lo facevo un po' plomo da poco comunque possiamo dare inizio alle danze aspettate posso dare inizio alle danze di questa nuova battaglia via allora certo che... forte! aspetta... no non ammira... da nabbo cazzi aia aia... mi prendo un attimo delle costruette io su youtube faccio dei video tipo clash royale solo che ora ho smesso però io credo che tra poco continuerò non so cosa sto facendo raga ma sappiatelo è la prima volta che Teo gioca con me a minecraft l'ho voluto invitare a casa mia proprio per questo... scusate se ci sono i slime e due coglioni però non ci posso fare niente ah e poi abbiamo messo pure delle trappole nelle nostre fortezze non ecco no 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 ma cosa sa mai vedete queste fotture sbagliare no commento voglio attaccare da dietro ma meglio di no ragazzi abbiamo solo un piccolo problema con di mob ma lasciamo perdere no comment io non ho mai stato un alco no no perché non mi fa saltare queste cose che il 2 cavolo mi piace anche lo slime adesso perché voglio mettere in lazio cazzo c'è lo slime indietro cazzo ragazze aspetta teo che mi sto mettendo bene le cuffie no 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 aspetta ci sono troppi mob aspetta 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 cazzo un culo teo solo mezzo cuore vi prego vi prego vi prego vi prego vi prego qui prego keeper del cazzo creeper creeper della mente smertante no no ti prego 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 variate jesus jesus mania che sprinta se bimoc del criste scusateci allora vi devo soltanto fare da una cosa stavolta ho messo pure le cuffie collegate comunque abbiamo avuto soltanto un piccolo problema con il mio possiamo ripartire e ricominciare del tutto vedete questi questi problemi che ho avuto con il mio cuginetto 3 2 1 vai parti ognuno fa quello che deve fare peccato che i mob non tutti sono andati ma già la maggior parte più della metà sono andata per le trappole io sono stato furbo ho fatto una cosa strana ti è arrivato un arco da me no non mi è arrivato un arco hai capito perché non una freccia ma un arco mi è arrivato si ti è arrivato una freccia si ma non vicino perché io non ti sto neanche vedendo beh incominciamo perché sennò qua i spettatori si adormetano eh beh si scusa so che io prima scendendo in campo ho perso di brutto ma anche troppo perché brutto io vi ricordo di prendervi dei popcorn e da bere e ora questa sfida puniziale è entrata sul tatuato mia madre non ti spara devo mai se ci sprechiamo perché abbiamo ancora sono già passati sei minuti ma attacchiamo tutti gli slime di fianco me perfetto perfetto non sarebbe una parola però dopo almeno devi provare a entrare nella mia però eh come io adesso voglio provare a entrare nella tua base ti ho preso no no ti ho preso? no perché sono così nabo? mi torno a te ma non mi faccio dire dietro perché io penso porca no no dammi un attimo di pietà perché mi è arrivato un creeper qua e non è esploso niente fortuno bello bello e impossibile si vede che mi sto vicino bengala no 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 ti prego fai tutto ma spegniti ragazzi ce l'ho nel buco del del deletano sono nel buco nero ragia ok che io non sono nero però o cosa vuoi ok tu stai porca puttana vacca morici male perché tu mi passi avanti la precedenza destra in passi così è cazzo anno si possono istruggere tra no cacarella di merda se non cado sono mi sono faccio schifo ci vediamo da teo però una volta il mio denier dalla mia base lo sarà più o meno come spi giochi ma iscrivetevi al canale di espi oppure il suo nome targato malissimo buongiorno buonasera pizza d'amiciglio si grazie una diavola con peperoni ti immagino se esistesse la pizza su minecraft cosa più bella del mondo ok adesso io mi devo un po' rifugiare adesso per favore vieni un po' tu da me e meno male meno male che io ho fatto una cosa perché tu non entrerai perché l'unica entrata non ti ho visto per un po' di culo ma io ti vedo tipo una testina grossa come un mignolo come un mignos volevi dire alex stai rischiando un po' troppo come ercole del crist mo' chi vuole ti lascia andare fino in base a riprenderti la roba ora ragazzi vi farò vedere le mie trappole io sono quello sotto però è un po' incasinato tutto qua dai veloce via vai pure porca puttana no scusa vabbè comunque era già una trappola e si guarda già una trappola ora vi farò vedere la seconda quante trappole in totale due poi io poi c'è un'altra cosa che devo far vedere assolutamente perché troppo bella devo andare dritto è sempre di tutto una volta qua vedete vedete vabbè ho già visto vabbè il bello che poi rimane castrato e difatti e non si vuoi un cazzo tu rimani di mezzo e c'era un po il piazza al blocchi abbiamo detto ora vi faccio vedere un'altra cosa e non è una trappola e non che non è un trappola alex ora mi farei da assistente veloce perché abbiamo se non incontriamo mob dove dove devo andare ovviamente si vede dalla tua base e continua io non ti vedo in realtà aspettate un secondo ora ragazzi farò vedere una bella trappola è sicuro un po si è sicuro dai vai se devi fare qualcosa ragazzo abbiamo avuto un piccolo problema un creeper esploso e ha rotto quello che volevo fare teo adesso teo vieni da me qua davanti bravissimo attraversa l'acqua vai quale porta vuoi scegliere per prima la seconda ovviamente ok vai o cavolo c'è un ragno dietro come tutti i giorni come sempre vabbè te lo tolgo io hai fatto cosa devo fare adesso apri non posso come non puoi c'è un tasto un pulsante aspettate ragazzi abbiamo preso il pulsante adesso teo dovrà entrare in realtà qua per colpa mia con messo una fottuta acqua qua c'ero dei pigmen e tanti ranni che l'avrebbero ucciso del tutto e se mi difendevo è scelto entra nella prima porta cosa c'è anche lì ci dovevano essere tanti altri mob ma non so come mai l'acqua li avrebbero uccisi o se siano uccisi da soli comunque aspettate comunque iscrivetevi al mio canale se siete tantissimi cometti mi piace se volete altri video come questo ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi e in più vi lascio il canale in descrizione del mio amico matteo e niente salutiamo ciao ciao a tutti ciao ciao e vediamo bene